E' stato pubblicato nei giorni scorsi dal comune di Monte Corvino Rovella il bando relativo al progetto Open Space. Il bando in questione prevede la selezione di 40 giovani del territorio per la partecipazione ad un corso di formazione di 30 ore finanziato dalla regione Campania nell'ambito di benessere giovani. Il laboratorio sarà dedicato all'autoimprenditorialità e sarà condotto da Giffoni Experience nel periodo fra il 22 gennaio ed il 22 febbraio. La domanda dovrà essere presentata presso l'ufficio protocollo del comune entro le ore 12 e 30 del 21 gennaio 2019. Continuiamo a lavorare per dare nuove opportunità al territorio, afferma l'assessore alle politiche giovanili Francesca della Corte. E' una sfida che vogliamo vincere. Partiamo dalla formazione dei nostri giovani per poi proseguire con la creazione di nuove aziende e con il potenziamento di quelle esistenti.